Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 28 aprile 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Nuovi ruoli, nuove regole in famiglia. Sarà tutto merito o colpa della coppia Venere-Mercurio, che vi lancia una bieca quadratura o della luna decisamente storta, assonnata alle vostre spalle, sta di fatto che a casa non vi sentite più a vostro agio, ciascuno si fa i fatti propri, in pratica vi limitate a condividere l'appartamento come un gruppo di studenti, invece siete una famiglia e qui bisognerà correre ai ripari. Detto fatto, preparate una bella cenetta, riunite partner e figli e come Mosè sul Sinae dettate il nuovo decalogo, sicuri di agire per il meglio. La vostra decisione non è un capriccio, ma il frutto di una profonda riflessione, provenite da una radice comune che intendete portare avanti nel tempo. In amore sembra rallentarsi tutto, in realtà ci sono errori di fondo che andrebbero rimediati e valutazioni errate che andrebbero corrette. Al consultante occorre molta pazienza per districarsi nei problemi della coppia e del proprio partner che ha spesso trascurato. I single avranno solo piccole avventure ma niente di rilievo. Il tempo, si dice, è galantuomo anche se certe ferite non risanano e certi ricordi non sbiadiscono. Oggi prendete del tempo per voi, cercate di rilassarvi e non soffermatevi su quanto patito o subito da altri. I tempi sono maturi per l'amore, siate però più docili e attenti alle persone che si sono segretamente innamorati di voi. Qualche problema di incomprensione familiare, compreso qualche litigio all'orizzonte, dosate sapientemente le vostre parole e i vostri gesti e ne trarrete tutti i benefici possibili. Non siate impulsivi. Molti potrebbero sentirsi inutili o inappropriati, si tratta di una sensazione passeggera. Se vi sentite schiacciati sotto il peso dei condizionamenti del passato, non avete da fare altro che recidere i ponti con quest'ultimo. Oggi potreste rimpiangere un vostro ex amante con il quale avete avuto una relazione extra e accorgervi di aver sbagliato tutto, han proprio tutto. Una notizia poco piacevole. Segui i tuoi scopi con convinzione. Più pazienza nel lavoro. Favorito l'amore. Sarai dolce e romantico. Nel vostro cuore c'è un ingorgo che nemmeno i semafori della ragione possono risolvere, perché oggi non vi prendete un giusto momento di pausa per riflettere davvero su ciò che è più conveniente per voi. Vi sentirete onesti e coraggiosi, ma non per questo meno impulsivi del solito. Potreste avere delle noie a causa della vostra impulsività. Meglio frenare i propri impulsi. Alti e bassi d'umore, stanchezza, nervosismo. Evita i pettegolezzi. Giornata strana e piena di contraddizioni. Adeguati alle situazioni. Nettuno nel segno amico dei pesci vi rende teneri, sensibili, capaci di attivare le corde dell'empatia che il vostro animo mostra di possedere, specie in famiglia e nel settore delle amicizie di sempre. Luna imbronciata in dodicesima casa, Venere e Mercurio in quadratura, basta già questo breve spaccato delle efemeridi per sintetizzare una giornata così così. Peccato per una domenica nel cuore di un ponte per tanti versi promettente. Probabilmente vi state stancando troppo e rispetto alle aspettative le attrattive locali o le attività che avete messo in programma anche in città o nella casetta di campagna non si rivelano all'altezza della situazione. Mal tempo, malumore o semplicemente noia, per voi abituati a puntare sempre in alto l'insoddisfazione e a una vicina di casa. Amore ed Eros. Famiglia turbolenta perché turbolento è anche il vostro passato, sembrate impassibili e controllati ma sotto sotto il cuore è un vulcano di desideri e progetti. Trasgressione invisibile ma intensa, lasciatela scoprire la persona del cuore. È un nuovo amore a invadere tutto lo spazio del vostro cuore adesso, sappiate accoglierlo con favore. Specie se appartenete alla seconda decade. Perché sono due i corpi celesti che fanno la vostra fortuna in amore. Uno è Marte che libera potentemente il vostro Eros, se siete della terza decade. Non ponete indugi e vi lasciate andare alle musiche più selvagge che risuonano dentro di voi, sia che siate single oppure che abbiate una relazione consolidata e stabile. L'altro invece è Giove, che accende il desiderio che suscitate negli altri. Lavoro e denaro. Ottimi investimenti vi hanno messi con le spalle al sicuro, perciò oggi potete permettervi qualche extra lusso che il vostro carattere sparagnino di regola non concede. Trasloco nell'aria o almeno un restyling in casa, come minimo pensata all'acquisto di un armadio o di una libreria capiente a sufficienza, con tutti i volumi che avete accantonato negli anni, però, vi occorrerebbe un palazzo. Una forma fisica eccellente è vivificata dal team Giove, Saturno, Nettuno che per tutto l'arco di questa bella primavera 2024 si trova in aspetto benefico per voi Capricorno, specie se festeggiate il vostro compleanno in gennaio. Molto moto e attività fisica vi saranno fedeli compagni. Vi farete conquistare dal metodo Pilates, che mira a modellare il corpo con i suoi esercizi e, eventualmente, a correggere la postura, toccando, migliorandolo, il punto cruciale del vostro segno, la spina dorsale. Benessere. Tensione nervosa oltre il livello di guardia, il primo sintomo è il blocco dell'appetito. Meno male, direte voi, pensando al lago della bilancia. Ma guai a farvi mancare i principi nutritivi fondamentali, sali e vitamine restano irrinunciabili, soprattutto in primavera. Denaro. Una bella luna in sagittario vi invita a prendere un biglietto del gratta e vinci o una schedina del totocalcio. Anche se siete un segno super razionale, qualche volta, potete provarci pure voi. Per lei, pensieri malinconici, in preda a quella strana sensazione che i poeti maledetti chiamavano spleen, è così che andate a rileggervi Baudelaire. Per lui, eredità o liquidazione in vista, giusto il gruzzoletto per ristrutturare il vostro appartamento o acquistare una casetta di vacanza. Il denaro arriva ma in compenso qualcosa se ne va, un affetto, un lavoro, una parte importante della vostra vita. Colore delle emozioni, prugna. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 6, finanze, 7, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.